Fase difensiva. Allora, si parla sempre di principi, ma cosa vuol dire parlare di principi? Perché a parole è semplice. Qua vediamo due squadre, Milan e la Lazio, che come modulo hanno tutti e due il 4-3-3. Hanno entrambi quindi una linea 4 di difesa, però come principi sono completamente diversi. Perché la Lazio di Sarri ha dei principi più collaborativi, dove non comanda l'avversario, ma comanda dove sta la palla, dove sta il mio compagno e per ultimo dove sta l'avversario. Il Milan invece fa l'opposto, comanda dove sta l'avversario e poi dopo tutto quell'altro viene di conseguenza. Iniziamo da questa visione qua, dove la palla è da questa freccia nera qui. Vediamo proprio i 4 della Lazio belli schierati. Vediamo come lasciano completamente libera la zona opposta e danno densità dove c'è zona palla. Nel giro palla scivolano tutti quanti, guardate che belle distanze tra i 4 difensori che ci sono. E poi comanda un concetto per le squadre di Sarri. Palla libera e palla coperta. Nella palla coperta c'è anche quando non può calcare, anche se questa teoricamente è una palla libera, però quando non calce torna indietro. E qua comanda, quindi palla, compagno, perché questi non guardano gli inserimenti ma guardano i compagni, e poi dopo anche l'uomo. Nel momento in cui questo si vede che non può calciare, torna indietro, Alina si ferma, bella pulita, questo va in fuorigioco e risalgono. Questo tipo? Scusa, vuoi finire o posso chiederti? Vai, 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 tranquillo. Provata un secondo indietro, per favore. Ora quando hai detto che era una palla, quando riceve la palla del terzino? Adesso? Ecco qua, nel senso, come giustamente hai detto, è una palla libera, però non ha... Non è calciabile. Il movimento del corpo non è calciabile, non fa nessuno anche, cioè è una palla tra virgolette libera, ma non scappano perché comunque non sta effettuando, non sta caricando per fare... Loro è proprio la squadra di Sardi, il trigger, il grilletto chiamiamolo, è il piede d'appoggio. Il piede d'appoggio quando carica... Quando sta caricando, quindi in questo momento non ne frega niente di quello che fanno gli attaccanti. E non è semplice, hai bisogno di tempo, non è che si fa, perché si fa, ma hai bisogno di tempo. Ok, te invece lo fai uguale? No. Non preferisci prenderti qualche metro in più? Allora, anche qua comandano le caratteristiche dei miei giocatori. Io posso far questa o posso far come il Mila. Vi faccio un esempio. Ho tanti stranieri, è più facile che faccio come il Mila, perché è un sistema molto più semplice. Intanto perché gli stranieri sono abituati a giocare con l'uomo. E poi perché io sono uno che subentra tanto, per questi tipi di automatismi ho bisogno di tanto tempo. Invece coi riferimenti diventa molto più semplice. Logico che non è solo riferimento, però sono letture un pochino più semplificate. E ti danno modo di essere più anche elastico. Perché elastico? Adesso qua nei video non c'è, però mi hai fatto venire in mente. Io ho giocato tante volte contro Sarri. Lui è bravissimo a tenere distanze sempre corte, quindi quando scappa, scappano tutti. Però se tu hai un unico giocatore che parte, loro partono in tre ogni volta. E tu in queste zone puoi fargli male. Quindi è un concetto che a me non piace tantissimo. Perché appunto ho bisogno di tanto tempo e perché un giocatore me ne fa correre tre. O a volte anche quattro. E qua in mezzo poi adesso nel calcio d'oggi che hai tante linee, che è un casino lasciare tutti quegli spazi là. Però lui lo fa benissimo. È arrivato secondo il campionato. Ha spesso e volentieri una delle migliori difese. Però è rimasto solo lui a far così. Lui è Giampaolo. Gli altri non lo fa più nessuno in Sarrià, questo tipo di lavoro qua. Sì, vanno tutti i suoi riferimenti, maggior parte. Eh sì. Infatti qua, vedi, salgono, giusto, giusto. Vedi che se tu guardi quello del Milan, vedremo dopo. Coda del Milan non sta qua, sta qua, in questa situazione. Vuol sentirlo sempre l'uomo. Invece loro, giustamente, hanno i riferimenti. Quando sei così, le distanze sono belle. Perché la linea alta ti permette di avere la squadra corta. Perché se io la mia linea è qua, in mezzo te la di nessuno. Invece qua, vedete che più o meno su tutte queste... Tanne questa, vabbè, ma le altre distanze sono tutte belle e precise. Altro concetto che hanno loro, qua rubo palla, è questo. Non guardiamo il tiro. Guardiamo qua. L'obiettivo dei giocatori della Lazio è piede sulla linea. Proprio è codificato. Quando attacco, devo arrivare col piede sulla linea metà campo. Quindi qua, diafano il gol, ma il concetto nostro adesso è guardare la difesa. E loro, vedete, come stanno. Qua è una situazione molto ossibile, con palla libera e qua pigliano gol. Adesso abbiamo fatto due azioni per ogni squadra. Il terzino è giusto che sia là, perché nelle loro scalate hanno bisogno dell'uomo in più qua. A parte che qua hanno la superiorità in più. Però è giusto che sia qua il terzino, come abbiamo visto prima al disegno. Qua sono anche sfortunati, perché è una azione molto simile. In quella di prima hanno fatto gol loro. Qua arriva secondo per qualche centimetro e passa sta palla qua. Il ritardo della terzino, perché la corsa di prima era lunga, non lo fa essere in posizione ottimale. Ecco, questo è il piede, il loro segnale. Qua scappo forte, tutti quanti. Il problema è che se tu hai perso l'uomo, come adesso, e non è in fuorigioco, quello fai fatica a recuperarlo. Non recuperi più. E allora, otto volte ti va in fuorigioco. Quando non ti va in fuorigioco, parte che lui dopo lo recuperano anche. È bravo lui all'azione. Però il concetto è questo. Quindi abbiamo visto, piede così, scappo a 3.000, piede torno indietro, risalgo sempre. E questi sono i principi della difesa 4 di Maurizio Sarri. Vedete, il terzino non ha fatto in tempo a tornare, perché se fosse stato là era a posto, e poi piano gol. Guardate la differenza, questa è una difesa a 3, però dove la distanza tra i reparti. La difesa a 3, te lo permette anche, va benissimo. Però fosse stata una squadra di Sarri, non dico, perché era un cambio veloce, che sarebbero già stati qua, però l'obiettivo loro era di guadagnare questi metri subito. Questo è il Mila. Sembra una difesa normale adesso, perché le distanze sono giuste. Palla il portiere qua. Questo è con l'Inter. Però guardate, mentre la palla è qua, questo è il difensore, Chiher, che guarda l'uomo. Non guarda i compagni, perché l'impostazione del corpo non è verso la palla o verso il compagno. È al contrario, guarda dove sta l'uomo. E si piglia il metro di tranquillità, cioè cosa che invece con la Lazio sarebbero stati tutti alti più avanti di lui. Vedi, vuole la tranquillità di quei 3 metri in più. È più facile questo da insegnare e do più tranquillità anche ai miei giocatori. I calzini sono fuori, però vedete, non è più una linea, cerco riferimento. Con la squadra è anche più lunga, perché quando tu hai riferimenti, logicamente un pochino ti allunghi anche. Vedete, sono proprio sugli uomini. Poi qua facciamo un ripasso delle sponde di Giraud, che veramente è una roba impressionante. Guarda che spettacolo. L'altro poi c'è il motorino. Però guardiamo i cerchi qua. Vedete che non hanno messo in fuorigioco nessuno. Quelli della Lazio prima c'erano 4 giocatori e 2 qua. Invece questi del Milan, nel dubbio, stanno ancora là. Poi vediamo che succede. È proprio un modo di difendere con dei principi diversi. Qua è una situazione simile, dove, vedete, i difensori cercano gli uomini. Non c'è una linea qua. Qua non c'è manco la copertura, c'è niente. È proprio un riferimento classico sull'uomo. Classico. Non è classico, è quello degli ultimi anni, dire il vero. E rimangono con l'uomo. La posizione è giusta. I principi creano lo spazio per il gol. Adesso qua io non sto giudicando quale sia migliore. Perché ho fatto due azioni per squadra posta. Dove hanno fatto gol e una dove hanno subito gol. Quindi non esiste il sistema dove non pidi mai gol. Esiste quello giusto che tu sai insegnare. E quello giusto, secondo me, anche per i tuoi giocatori. Se ne sai insegnare tutti e due, secondo me è più facile, in base ai giocatori che hai, avere le risposte immediate. Qua vediamo appunto che la freccia rossa segue la freccia blu. E la freccia rossa segue la freccia blu. Come io farei così? Cioè io andrei a uomo su queste situazioni qua. Ma pigliano gol qua. Si crea questo spazio. Se tu porti via tutti, non c'è più un ordine negli spazi. E là poi fanno il gol. Però è proprio per dire la differenza di principi. Grazie. 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 Grazie.